Campagna vaccinale, dibattito e polemiche sulle prenotazioni online gli over 80 nell'ultima seduta del Consiglio regionale. Buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio, puntata monotematica dedicata alla campagna vaccinale, alle difficoltà delle prenotazioni online per le persone estremamente vulnerabili, ma anche ai ritardi nella campagna di vaccinazione anti-covid per gli over 80. Argomenti che sono stati al centro dell'ultima seduta del Consiglio, che sono stati introdotti in particolare dalle opposizioni e in particolare riguardo a ciò che è successo martedì sera con la piattaforma di prenotazione dei vaccini per le persone estremamente vulnerabili, che è andata in tilta a causa delle tantissime richieste. Sentiamo che cosa hanno detto i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti e di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli. Avevamo proposto qualcosa di più, una commissione di inchiesta specifica per tutta la pianificazione vaccinale, perché è evidente che quello che sta succedendo non sono occasioni spot di servizi singoli. C'è un problema strutturale e quello che è inaccettabile è la disonestà comunicativa con cui si continua a dire che la Toscana è prima e sta facendo un ottimo lavoro quando non è così. Di fronte alla frustrazione di migliaia di persone che non riescono a fare una prenotazione, sarebbe invece auspicabile che la Regione comunicasse quelli che sono i problemi, quelli a lei imputabili e quelli che non sono imputabili, come per esempio la mancanza o i tagli delle forniture, e soprattutto che trovasse una soluzione. E questo può essere fatto all'interno di una commissione di inchiesta, un contenitore all'interno del quale mettere mozioni, interrogazioni, dove si possa fare un lavoro tra tutte le forze politiche per cercare di contribuire con la Giunta a questo. Il fatto che la Giunta non lo voglia è una chiusura inaccettabile, lo ripeto ancora, a fronte di quello che sta succedendo e non lo possiamo tollerare, perché queste persone in questo momento stanno subendo, oltre al danno di non sentirsi sicure perché non hanno ricevuto il vaccino, anche la frustrazione di non essere in grado di farlo. Parliamo di persone anziane e fragili e soprattutto si sta scatenando panico sociale e allarme e la Giunta è responsabile anche di questo. Oggi siamo forse nel giorno più drammatico per la Regione Toscana dall'inizio della campagna vaccinale. Ieri sera abbiamo aperto il portale per prenotarsi online a ricevere il vaccino. Il funzionamento del portale è durato un minuto e stamattina tutti noi siamo stati subissati di messaggi, di mail, di telefonati di persone che non riuscivano a prenotare il vaccino. Oggi in aula discutiamo di questo e ci sentiamo dire e ripetere che non è vero, che l'opposizione si inventa le cose, che in Toscana non ci sono mai stati sprechi, che non ci sono mai state dosi buttate. Allora, serve un punto fermo e un atto di umiltà da parte di chi governa questa Regione. Siccome sbagliare è umano, non c'è niente di male se l'assessore, il Presidente Gianni, i direttori delle USL si presentano e dicono abbiamo sbagliato. Non c'è niente di male, nessuno li accuserà mai di averlo fatto in malafede, nessuno pensa che in Toscana qualcuno abbia lavorato fino ad oggi per far fallire il piano vaccinale. Ma oggi ci sono i numeri e i numeri dicono che la Regione Toscana è la penultima in Italia per vaccinazione degli over 80, che non riesce ad aprire il portale per vaccinare i settantenni nei fragili, che qualcuno addirittura riceve invece a casa la telefonata a 40 anni per andarsi a vaccinare, forse perché è un personaggio famoso in televisione. Perché gli hub vaccinali buttano via dosi di vaccino tutti i giorni, o almeno le buttavano fino a una settimana fa. E non c'è stato raccontato dagli alieni, l'abbiamo visto con i nostri occhi. Quindi tutto questo è successo. Non ovviamente per dolo, ci mancherebbe altro, non è più tollerabile sentir dire da parte delle USL, da parte dell'assessore, che noi mentiamo. Vengano queste persone di fronte ai cittadini della Toscana e ammettano di avere sbagliato. Perché sbagliare è umano e da domani si lavora per far finalmente decollare il piano vaccinale anche in Toscana. La commissione d'inchiesta risponde alla seconda domanda, serve a questo. Noi la porteremo avanti come richiesta, la confermiamo, confermiamo una necessità. Anzi, forse oggi è ancora più importante di ieri averla. E io mi auguro che la maggioranza non faccia lo stesso errore dell'assessore e dei direttori delle ASL. Cioè non venga a dirci no, noi votiamo contro e noi la faremo lo stesso perché il regolamento ci permette di farla. Io mi auguro che sia una commissione condivisa da tutti dove si lavora per cercare di far partire da domani la fase 2 dei vaccini in Toscana. E adesso sentiamo che cosa ha risposto alle opposizioni il presidente della regione toscana Eugenio Gianni che è intervenuto in aula e poi ha riferito anche ai giornalisti. Come quando noi mettiamo 15.000 dosi di vaccino che sono quelle che abbiamo e di più io non posso moltiplicare i panni e i pesci? Sono 15.000. Per iperfragili che in Toscana sono 80.000 e che noi abbiamo già incominciato a vaccinare con il criterio che chi si vaccina deve essere diciamo nell'elenco della ASL. La ASL ha incominciato a chiamare. Ci sono anche patologie di cui la persona non gradisce che si conosca all'esterno e l'operatore ASL si è sentito la sollecitazione. Ma lei chi gli ha detto che io ho questa malattia? Perché mi telefona? Allora accanto ai 10.000 che abbiamo vaccinato nell'arco di più settimane con la telefonata ASL abbiamo detto mettiamo sul portale che semplifica con la possibilità di prenotarsi alla hub i 15.000 vaccini che ci sono arrivati. Questi 15.000 significano oggi 24 di marzo 15.000 prenotazioni. Lo so che ne sono rimasti 80.000, meno 15.000, 65.000 persone senza poter corrispondere il proprio desiderio. Ma i numeri sono questi. Noi man mano che ci arrivano i vaccini li rimetteremo sul portale e tutti gli 80.000 potranno arrivare a prenotarsi a fare il vaccino. Detto questo l'altro capitolo è sugli over 80. Io fugo tutte le polemiche. Dico che oggi gli over 80 che riceveranno il vaccino sono 13.356 dal loro medico di famiglia. Perché io ho puntato sugli medici di famiglia. Perché sono quelli che conoscono l'ultraottantenne. Sanno come fargli a puntura, metterlo a proprio agio da un punto di vista psicologico. Certo, ci è voluto qualche giorno in più, ma il servizio che fa il medico di famiglia non è il servizio che fa l'operatore anonimo in un hub. Io penso anche all'aspetto psicologico per le persone oltre 80. Domani saranno 16.014 e sono numeri delle prenotazioni che hanno con i medici di famiglia e i singoli pazienti. Domani all'altro saranno 11.190 e vale come sopra. Man mano che ci arrivano noi li mettiamo in condizioni di essere somministrati. Entro il 25 aprile tutti gli anziani over 80 avranno avuto la loro prima vaccinazione. Dopo l'intervento di Gianni di nuovo i consiglieri, in particolare le opposizioni che hanno commentato l'intervento del Presidente della Regione. Al termine sentiremo anche il Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni del Partito Democratico. Gianni ha fatto un minestrone di informazioni volando molto alto politicamente ma non ha risposto a quello che gli avevamo chiesto noi all'inizio seduta. Perché che il disservizio ci sia stato è evidente, che l'organizzazione sia carente ormai è conclamato, però cosa si intenda fare da domani ancora non ci è stato spiegato e forse era anche semplice e umile dire qualcosa non funziona, dobbiamo migliorare. Se invece ci si focalizza sul va tutto bene, va tutto bene, ci arrivano però solo vaccini AstraZeneca e non riusciamo ad avere Moderna e Pfizer, mi domando perché Eugenio Gianni invece di venire a fare voli pindarici in aula non chiami il Ministero e non chieda che ci vengano forniti vaccini sufficienti e idonei per vaccinare le persone fragili e gli anziani. Questo è quanto noi pensiamo, l'organizzazione non funziona, abbiamo delle grandi falle che denunciamo da mesi ormai e che però se non vengono riconosciute per prima dal Presidente della Regione il primo passo è proprio quello di dire c'è il problema altrimenti non verrà mai risolto. Certo è che con la comunicazione di oggi Eugenio Gianni non ha risposto sui disservizi di ieri sera, questo ci dispiace perché noi vorremmo riportare le centinaia di cittadini che ci chiamano quello che la Regione intende fare. Insisteremo per cercare di capire se e come miglioreranno il sistema. In queste ore tutti noi, maggioranza, minoranza, governo, opposizione, siamo veramente surclassati di messaggi, telefonate di tantissimi toscani che sono di fatto disperati, persi nell'odissea alla quale sono costretti per poter accedere al vaccino, sballottati sui siti internet della Regione Toscana con messaggi confusionari, complicati, oltretutto ci stiamo riferendo a persone ultraottantenni, quindi con una difficoltà veramente disarmante, chi arriva primo lo prende però poi magari tre minuti dopo gli dicono che non era più valido. Però contemporaneamente scopriamo che Scanzi si è vaccinato grazie a una lista di riserva verbale, quindi io ho chiesto all'assessore di spiegarci che cos'è questa lista di riserva verbale, perché succede e qual è il modo di approcciarsi. Al di là delle polemiche Scanzi e non Scanzi, il problema è che siamo in una situazione di assoluta confusione perché la Toscana non si è voluta dotare di tre linee guida che noi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato in aula, chi si vaccina, chi inocula il vaccino, dove il vaccino viene inoculato. Se non si mettono in chiaro questi tre principi è chiaro che si rimane nella confusione nella quale purtroppo siamo e alla quale stiamo costringendo i nostri concittadini. Noi assistiamo che il maggiore dei problemi è dato dalla mancanza di dosi. La macchina organizzativa vaccinale della Toscana è in grado di somministrare circa 25.000-30.000 dosi al giorno, purtroppo fino ad oggi ne sono affluite 30.000. Poi magari ci sono state come dire delle attribuzioni che non sono andate per quanto riguarda i vaccini utilizzabili a quello scopo, vale a dire i Pfizer, agli ultraottantenni perché sono state destinate maggiori dosi al personale sanitario, prima-seconda dose. Questo perché la nostra struttura pensava che le dosi fossero anche maggiori di quelle che poi invece sono arrivate perché sono state oggetto di riduzioni unilaterali da parte di chi le doveva fornire. Ora sappiamo che nei prossimi 15 giorni arriveranno 120.000 dosi. La macchina è messa in movimento per poterle somministrare, tutte agli over 80, in maniera tale da arrivare entro Pasqua a circa 200.000 over 80 in Toscana vaccinati e quindi di poter recuperare il terreno. Ovviamente di questo ritardo siamo dispiaciuti ma sono convinto che se le dosi effettivamente ci saranno, come le prime 50.000 sono già arrivate, sarà anche possibile recuperare il tempo perso. Non si può dire che ci siano disservizi dal punto di vista della capacità di erogazione perché se andiamo a vedere siamo indietro per quanto riguarda gli over 80 ma per quanto riguarda le persone residenti in Toscana vaccinate siamo invece ai primi posti. C'è qualcosa che non va e questo deve essere appurato. Dobbiamo cambiare il sito? Cambiamo il sito. Dobbiamo implementarlo? Implementiamolo. Ma è assolutamente inaccettabile che la Regione Toscana non abbia un sito che supporti le prenotazioni che in questo momento occorrono. Tra l'altro devo dire che sono molto contento perché è stata approvata, ci aggiungiamo ad approvarla, la mia mozione in Consiglio regionale che è un supporto all'azione del Governo e chiede alcune cose. La prima è vaccinazione 24 ore su 24. Oggi non possiamo più fermarci. Nel momento in cui arriveranno le dosi occorre vaccinare ed occorre farlo veloce 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Chiediamo anche che gli over 80 vengano vaccinati non solo nella mariera più rapida possibile ma coloro che non possono spostarsi da casa lo facciano a casa. Cioè deve essere la Regione che va a vaccinare a casa. Chiediamo lo scudo fiscale, cioè che la Regione chieda al Parlamento di fare una norma immediata, equilibrata, che consenta a medici, infermieri, personale del volontariato. Le tante persone sono rese disponibili a vaccinare, compreso i farmacisti che si fanno una dose vaccinale e purtroppo chi riceve il vaccino ha per svariati motivi, uno shock anafilattico fino purtroppo al decesso, non vi debba essere nessuna responsabilità per chi ha somministrato quel vaccino. Perché se no corriamo il rischio che non andrà più nessuno a vaccinare gli altri. E poi chiediamo anche che la Regione toscana consenta alle aziende che si sono rese disponibili di vaccinare presso le loro aziende. Ecco, delle azioni che consentiranno di accelerare la fase vaccinale, che ancora è troppo lenta. Naturalmente occorre un impegno del Governo per far arrivare i vaccini. Perché se è vero che da un lato la Regione, soprattutto per esempio sugli over 80, è in ritardo, è altrettanto vero che le dosi che stanno arrivando in Regione toscana non sono sufficienti e mi permetto di dire in Italia. Quindi occorre un'accelerazione e occorre anche, a mio parere, dire alle case farmaceutiche che se non rispettano gli obblighi e i contratti che si sono assunti e allora quel vaccino deve diventare patrimonio dell'umanità. Perché in un momento come questo non si può pensare che le case farmaceutiche da un lato si arricchiscono con i loro brevetti e dall'altro ci sono persone che muoiono perché prendono il Covid. Sulle vaccinazioni degli estremamente fragili, l'assessorato ha l'elenco di tutti i pre-registrati che sono circa 80.000. Questa volta c'è stato un problema perché le dosi erano solo 15.000 e quindi si è creato un imbuto che ha generato delle grave difficoltà per chi si doveva prenotare. L'assessorato, abbiamo chiesto, sta lavorando a una soluzione che permetta di poter prenotare a tutti i 80.000 gli estremamente fragili che si sono registrati, tra estremamente fragili e caregiver degli stessi, in maniera da evitare ulteriori giornate come quella di ieri sera nella quale si crea solo apprezzione e difficoltà. I vaccini purtroppo ne è arrivati meno del previsto, però contiamo che nei prossimi giorni l'assessorato possa riaprire una prenotazione o introdurre delle modalità organizzative che evitino le code di ieri sera. Mentre sugli over 80 il tema è l'arrivo dei vaccini. Questa settimana sono in distribuzione in questi giorni i primi 46.000 vaccini, 70.000 arrivano la prossima settimana. Se tutto va bene come noi speriamo, grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale che voglio ringraziare, si dovrebbe riuscire a, prima di Pasqua, riavere un livello importante di vaccinazione degli over 80. Quindi contiamo in questi giorni di avere risultati. Mercoledì alle 14 l'assessore Bezzini verrà in commissione a riferire sull'andamento del piano vaccinale e di tutte le modalità organizzative che stiamo seguendo. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento tra sette giorni.